Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. In ogni professione, l'attenzione e la dedizione sono fondamentali, così come lo è il riposo, essenziale per mantenere alte le prestazioni. Questa regola vale per tutti, inclusi i personaggi di spicco del panorama politico, come dimostra il recente annuncio dalla Corte inglese. La regina Camilla si concederà una pausa dai suoi doveri ufficiali per rigenerarsi. Ultimamente, Re Carlo III si è ritirato dalla vita pubblica, a seguito della diagnosi di un tumore al pancreas, concentrando le sue energie sulla battaglia per la salute. Sebbene ciò non significhi un totale disimpegno dalle questioni statali, la sua assenza agli eventi ufficiali è palpabile. In sua vece, hanno operato sia la regina Camilla sia il principe William, erede al trono. Tuttavia, recentemente, Camilla ha deciso di prendersi un momento di pausa, spinta anche dall'incoraggiamento del marito, che ha riconosciuto il peso delle responsabilità accumulate da lei, aggravate dall'ansia per le sue condizioni di salute. Secondo il The Sun, la regina avrebbe programmato un breve viaggio in solitaria, utilizzando un jet privato per allontanarsi momentaneamente da Londra e rilassarsi. Questo gesto di Re Carlo, che ha spinto la moglie a prendersi questo tempo per sé, lascia intravedere un cauto ottimismo riguardo al suo recupero. Si prevede che Camilla riprenderà i suoi impegni ufficiali l'11 marzo, quando rappresenterà il marito durante il Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster. Nel frattempo, Re Carlo rimarrà a Londra per proseguire le terapie mediche. Durante l'assenza temporanea della coppia reale, i doveri istituzionali saranno affidati alla principessa Anna e al principe Edoardo, duca e duchessa di Edimburgo. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.